siamo a foggia puglia sud italia siamo davanti al supermercato andiamo a vedere quanto ci costa fare la spesa qui rispetto alle città del nord italia nelle altre città del mondo secondo me ci sarà da ridere andiamo le olive siamo sui 10 11 euro al chilo olive verdi 9 euro le scamorze a 12 e 49 diciamo che se fate un controllo sui vostri prezzi da qualunque città d'italia siete sono penso che sono più alti qui abbiamo le mozzarene di bufala 14 90 al chilo burrata e straccia ragazzi dimenticavo iscrivetevi al canale se vi piace il video lasciate un commento condividete perché abbiamo bisogno del vostro aiuto ok grazie ragazzi ciao pecorino fresco 18 90 canestrano questo è buono canestrano 24 il caciocavallo di ascoli satriano 17 90 la differenza ragazzi questi sono tutti prodotti freschi parliamoci chiaro questa che cos'è una mozzarella di bufala 31 60 la confezione da 470 grammi e siamo sereni che la mangiamo fresca taralli al vino bianco 3 euro e 10 pacco da 500 grammi sono prezzi che non ho trovato neanche nelle filippine c'è il video sulla lista lo potete guardare sono prezzi veramente bassi dovevamo vedere i taralli pugliesi a 220 queste sono una specie di tarallo la stessa pasta in una forma diversa ma ci sono buoni ragazzi buoni 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 uova confezione da 6 a 1 e 49 quelli pasta gialla 1 e 59 ma queste sono tutte a chilometro zero comunque e se il rosso del gargano il dattero che è bellissimo sto pomodoro 1 e 99 c'è invece quello della granoro 0 95 i datterini questi qua sono belli però questi sono buoni il tonno ardea 250 con olio di semi e mare blu 369 ma non è male l'olio invece desantis 10 euro però la bottiglia da un litro non è da 750 da 750 abbiamo falchioni a 7 49 che quindi costa uguale a pasta molisana un euro e 19 abbiamo questa questa strana sempre un euro e 19 gli spaghetti un euro e 19 a balilla costa poco un euro e 09 pacco da chilo no 500 grammi 1 euro e 09 e la cosa si infittisce barattolone di nutella gigante da 950 grammi 7 euro e 30 ora al b 2 79 la confezione piccola e spazzolini 1 50 spazzolini da denti normali quelli della menta denti è una cosa interessante per le donne a 2 59 linea sultra per la patata la confezione di dash quella piccola 6 euro e 40 insomma poi c'è perlana in offerta a 3 59 quindi la spesa conviene fare dal sud italia questa è la realtà sono freschi e costano meno